Un'amica gli fa l'altra, ma a me succede da una settimana una cosa strana, che ti sta succedendo? Dice, tutte le mattine da una settimana mi viene a suonare uno che mi dice, c'è tuo marito? Gli dico no, mi sbatte per due ore sopra il divano, mi tromba tutto il giorno. Però, dice a me, mi sembra strano, non riesco a capire. Che cosa non riesce a capire? Che cazzo vuole da mio marito?